ragazzi finalmente è arrivata l'ora l'ora di svelare come si installa i tasti start e stop su tutte le otto vetture con avviamento con chiave in questo caso andiamo a vedere l'audio a3 8w dal 2016 al 2019 ragazzi per fare questo tipo di retrofit avete bisogno degli schemi elettrici quindi sono disponibili su elsa win chi ha la possibilità può acquistare elsa win o chi non ha la possibilità vada direttamente sul sito che è russo se non sbaglio vada lì e trova ovviamente gli schemi elettrici per la propria vettura ovviamente io in descrizione li pubblico ma ovviamente questo sarà un video in abbonamento l'abbonamento per questo tipo di retrofit si chiamerà retrofit quindi coloro che sono interessati possono abbonarsi e scoprire come si installano questi in maniera facile anche da soli creerò un tutorial passo passo con indicazione di schemi elettrici e in descrizione troverete la componentistica di schemi elettrici e anche una breve guida sull'installazione oltre a vedere questo video in alcuni casi riceverete direttamente la cornice così composta in altri casi riceverete soltanto i tasti da dover ovviamente attaccare al vostro alla vostra cornice ovviamente ho creato già un video dei tasti start e stop sull'installazione basta fresare qui e poi attaccarci due viti che mantengono i tasti ho creato anche un video ragazzi in quanto i tasti start e stop e select drive erano leggermente svirgolati quindi ho creato un altro tutorial per adrizzarvi è facile ragazzi un po di manualità e lo fate in questo caso ragazzi come potete vedere i tasti sono perfettamente dritti in linea con diciamo la cornice ok prima erano leggermente svirgolati di 10 gradi così non mi piacevano per niente quindi adesso andiamo a vedere come si installa bene ragazzi iniziamo a descrivere l'apparecchio quindi come funziona questo qui che voi riceverete quindi i tasti sono comandati in maniera diciamo wireless quindi con un controllo remoto quindi questo è un emettitore di segnale questi due mettono in segnale come potete vedere c'è un'antenna questa qua è un'antenna e sono collegati i tasti start e stop e select drive attraverso questi cavi qua ok questi altri cavi invece sono per l'alimentazione molto semplice lo trovate dappertutto quindi ma come puoi collegarsi lo vediamo dopo questo qui invece è il ricevitore di segnale quindi riceve il segnale dallo start e stop e select drive quindi converte ovviamente la pigiatura emette un segnale mentre se pigiate il select drive emetterà un altro segnale da un'altra parte il kit questo che viene fornito va bene sia per la versione tasti start direttamente sulla plancia sia sulla versione con l'avviamento a chiave questo sistema può essere installato su audi a3 audi a4 audi a5 audi a6 tutte le macchine che hanno questo tipo di cornice con airbag piccolo e hanno sia l'avviamento a chiave sia l'avviamento con start perché attraverso questo connettore voi vi interporrete sull'avviamento con il pulsante l'avviamento col pulsante è molto molto semplice ma non lo tratteremo oggi perché è facilissimo perché si interpone esattamente dove sta lo start quindi basta smontare il tasto e vi interponete con questo sistema qui con questi cavi qui ed è facile mentre con l'avviamento a chiave bisogna fare un altro tipo di risoluzione quindi adesso lo andiamo a vedere piano piano nello smontaggio se ovviamente vuoi continuare a guardare questo video per quanto riguarda l'installazione dovrai sottoscrivere l'abbonamento retrofit ti ricordo che lascerò in descrizione un tutorial scritto ti ricordo che in descrizione troverai disegni tutto quanto ovviamente ragazzi vi ricordo che sotto lascerò il link per quanto riguarda la modifica dei tasti e quant'altro quindi ve lo ripeto ora il primo step è installare questi qui ok quindi la cornice con i tasti ok ragazzi ovviamente dobbiamo per sostituire questa cornice dobbiamo smontare l'airbag e poi ovviamente rimuovere il vecchio frame e mettere il nuovo o nel caso voi abbiate comprato solo i tasti installare solo i tasti ma è necessario in questo caso smontare il volante e lavorare diciamo su un banco di lavoro andiamo a mollare l'airbag per mollare l'airbag ovviamente vi ricordo sempre di staccare la batteria quando tirate il connettore sollevate questo uno e due quindi staccate la batteria rimuovete il pin di sicurezza che sta dentro questo bianco sganciate l'airbag sganciate i tasti al comandi il connettore dei tasti al volante scusate ok ragazzi qui abbiamo un connettore che ha quattro fili e quindi avete alimentato anche la scheda per emettere il segnale del trasmettitore questo qui ok questo qui quindi ragazzi una volta fatto questo avrete una situazione del genere ora ora è inutile che lo faccio perché io ho già l'ho fatta la prova avete una situazione del genere dove sarà tutto connesso ok quindi a questo punto qui voi avete finito qui dovete soltanto rimontare l'airbag ok ragazzi step 2 ed è quello diciamo intermedio che serve per alimentare la scheda questa qui e andremo a dare segnale di start ok poi andremo a vedere anche il select drive come fare ragazzi semplicemente la scheda viene alimentata a questo punto la scheda alimentata ora ogni volta voi pigiate il tasto start e select drive emetterà un segnale questi file li troverete alcuni di questi li troverete direttamente in descrizione al video questo è il blocco avviamento bene ragazzi quindi il tasto start è collegato quindi tutto a posto rimettiamo tutto dentro bene ragazzi mentre per i tasti drive e select dovete smontare la piccola la plancetta che sta qui al centro ora lo facciamo insieme ecco qui qui sotto ci sono due feritoie quindi mettiamo le chiavette qua una e due e tiriamo la nostra plancetta estraiamo questi pin questi estrattori tiriamo fuori troveremo il nostro connettore quindi lo andiamo a smontare vi ricordo sempre che quando pigerete il tasto drive select lui emetterà un segnale che verrà ricevuto da questo dispositivo nell'alloggiamento questo in questo caso avete completato l'installazione sia del tasto start sia del tasto drive select ragazzi è adesso il momento più atteso il video prova dei tasti start e select drive è stato già pubblicato molto tempo fa adesso ve lo ripropongo eccolo qui quindi tasto drive select tutto quanto collegato così accendo anche le luci di posizione la retro illuminazione adesso funziona poi il tasto start eccolo qui faccio così e mi chiedo ovviamente di avviare il freno per avviare la macchina quindi funziona il tasto drive select lo stesso speriamo che non si sia scollegato perché si è scollegato non funziona più vediamo ah no funziona ancora ok diciamo che funziona tutto ti faccio vedere la prova guarda ovviamente chiave sta già girata pigio il freno ok tutto a posto bene se hai seguito fino qui il video vorrà dire che hai sottoscritto l'abbonamento e hai visto completamente tutti i passaggi per l'installazione tasti start e stop e select drive quindi in descrizione ti ricordo che troverai tutti i file inerenti all'installazione inerente alle scheme elettrici che potrai seguire tu stesso o potrai eventualmente dare al tuo meccanico di fiducia o elettrauto che farà per te il lavoro bene ti ringrazio della visualizzazione noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao